La rotatoria che il comune non ha previsto nel PGT, il timore dell'inquinamento atmosferico, i guai alla viabilità e soprattutto l'incubo dei miasmi sprigionati dall'impianto e dai camion che trasportano le tame e altri liquami al biodigestore che con un passaggio a livello che passa più tempo chiuso che aperto, come quello della stazione di Stradella, potrebbero spesso trovarsi bloccati in mezzo alle case del quartiere residenziale a nord della cittadina. Sono alcuni dei timori del comitato civico appena ufficializzato a Stradella per dire no all'impianto per la produzione di biogas proposto da un'azienda veneta nelle campagne al confine con Portalbera lungo la strada provinciale 200. Abbiamo incontrato il portavoce del comitato Ettore Brandolini, già consigliere comunale a Stradella, che ha ufficializzato ai nostri microfoni la nascita del nuovo soggetto che conta già alcune decine di cittadini, i due comuni di Stradella e Portalbera e alcune associazioni come Legambiente. Si tratta di un progetto che verrebbe alimentato con dei rifiuti di origine animale provenienti d'altrove e dai calcoli si tratterebbe di circa 40-50 fra camion e trattori al giorno in una zona già fortemente congestionata dal traffico, come via Po, con un passaggio a livello che in certe fasce orarie chiude ogni 7-8 minuti. Quindi finirebbe questo quartiere a nord di Stradella per essere soffocato dai miasmi e dal traffico. La stessa sensibilità che abbiamo raccolto dai comuni di Stradella, in particolare di Portalbera, speriamo venga in un certo senso replicata anche altrove, in particolare dall'amministrazione provinciale di Pavia. L'Oltrepo non ha bisogno di questi impianti, anche perché, torno a ripetere, non si parla di economia circolare. Casomai, come ha sostenuto Legambiente, gli impianti forse utili per l'Oltrepo sarebbero quelli per il riciclaggio delle vinacce. L'impianto è nel comune di Stradella come territorio, ma è più vicino come case a Portalbera e quindi anche gli aderenti di Portalbera faranno parte di questo unico comitato che attorno alla metà di settembre, massimo verso il 20-25, attiverà una prima iniziativa pubblica.